Ok, esperimento. Ciao, sono Francesco e lavoro per Blender ad Amsterdam. Blender è il software libero, open source, di grafica e animazione 3D. In particolare lavoro al Blender Institute, che è uno studio di animazione che ha prodotto cortometraggi come VVBag Bunny, Sintel, Tears of Steel, Cosmos Londromat e la serie Caminandes. Lavoro con Blender da una decina d'anni, vivo qui ad Amsterdam dal 2012. Non ho mai caricato volontariamente un video con la mia faccia su YouTube, quindi perché iniziare adesso? L'idea è nata parlando con Pablo, mio amico, mio collega. Ci siamo chiesti, esistono un sacco di contenuti online che parlano di Blender, soprattutto sono tutorial. Ma esistono contenuti che parlano dello sviluppo di Blender, della community in una lingua che non è l'inglese. E quindi abbiamo deciso di chiedere, di provare a fare un video per vedere se c'è interesse nell'ascoltare queste cose. E io sono fortunato, lavoro appunto al Blender Institute dove un sacco di sviluppo di Blender succede. Lavoro a contatto con i core developers, gli sviluppatori di Blender. Buona parte degli sviluppatori di Blender sono al Blender Institute che lavorano con artisti di alto livello che creano contenuti tutti i giorni usando Blender, migliorandolo sempre di più. E quindi è un'ottima opportunità insomma per provare a raccontare di prima persona le cose che stanno succedendo. Sono felice di fare questo esperimento in italiano piuttosto che in inglese, anche se è molto difficile parlare di queste cose in italiano. Però è una sfida, secondo me sarà interessante. Quindi quello che vorrei sapere è, esistono, esistete, ci siete, ci sono persone a cui interessa questa cosa. E chi siete? Dove siete? Siete su Twitter? Siete qua su YouTube? Su Facebook? Dove sono le community italiane? Dove è la community italiana di Blender? Al tempo quando ho iniziato ero su Kino3D e Blender.it. Quindi vorrei riallacciare un attimo i rapporti e capire se c'è interesse. Se volete parlarmi mi trovate su Twitter, è più o meno l'unico posto che uso, il mio sito è fc.com. Fatemi sapere, ciao!